In Abruzzo emergenza personale nei tribunali, una situazione per la verità nota da tempo a cui più volte si è cercato di porre rimedio. La carenza di organico però permane, tant'è vero che la regione ha chiesto, con apposita delibera, di destinare 2 milioni di euro, prelevandoli dal fondo spettante all'Abruzzo del decreto Sisma 2016, per l'assunzione a tempo determinato di 185 precari degli uffici giudiziari abruzzesi che fanno capo alla Corte d'Appello di L'Aquila. Sei mesi di contratti per coloro i quali hanno seguito tra il 2010 e il 2013 il corso di formazione e di perfezionamento negli uffici giudiziari di Corte d'Appello e della Procura Generale della Repubblica di L'Aquila, conseguendo la qualifica di operatore per la gestione delle relazioni con gli uffici giudiziari e prevedendo il reclutamento dai centri per l'impiego con preferenza verso il personale che abbia esperienza professionale tale da garantire la funzionalità degli uffici. Intanto al Tribunale di Avezzano, che rientra tra i piccoli tribunali destinati a chiudere, a partire dal 2020, da lunedì saranno operativi per tre mesi due magistrati dell'Aquila, destinati a lenire la cronica mancanza di personale. È stata accolta la mia istanza di invio di rinforzi temporanei per poter sopperire alle gravi deficienze di organico e per tre mesi avremo due magistrati del Tribunale di L'Aquila che ci daranno una mano tenendo ciascuno due udienze al mese rispettivamente nel settore del lavoro e nel settore del dibattimento penale. Coperti questi due posti rimarranno ancora vacanti tre posti, il posto del giudice del lavoro e due posti di giudice di tribunale. Una buona notizia che però si scontra con la mancata pubblicazione da parte del CSM, del bando per sostituire il presidente del foro marsicano Eugenio Forgillo, destinato a lasciare Avezzano entro l'estate. La mia partenza è prevista per l'estate in quanto il Ministero della Giustizia accogliendo una mia istanza di postergazione dell'andata via perché mi sono reso conto della drammatica situazione e quindi ho chiesto io stesso di rimanere ancora qualche mese facendo un sacrificio personale non indifferente. Mi risulta che il CSM ha ancora pubblicato il mio posto vacante quindi non si è ancora mossa la macchina per reperire tutte le disponibilità di chi voglia venire a occupare questo posto.